Buongiorno a tutti. Le persone sotto la guida del farmacista hanno deciso di donare e che verranno distribuiti ai 1720 enti assistenziali convenzionati col banco farmaceutico. Loro reputiamo un servizio molto utile e so che comunque anche molte farmacie di Fano e della regione aderiscono a questo progetto perché qui evidentemente ritengono il progetto molto utile come lo riteniamo noi. In cinque anni dalla sua istituzione la richiesta di farmaci da parte degli enti è aumentata del 27% e il numero degli indigenti è cresciuto in un anno del 4%. In particolare sono aumentati i poveri minorenni soprattutto italiani in aumento del 4,5%. Nella provincia di Pesaro Urbino sono state 37 le farmacie aderenti alla giornata sparse in tutto il territorio assistite da oltre 400 volontari. Anche Fano ha aderito a questa iniziativa con 7 farmacie convenzionate con 50 volontari che assieme ai farmacisti hanno assistito i clienti nell'iniziativa. Questa attività che ormai si svolge da molti anni è sempre una cosa importante e coinvolge molti volontari e diverse farmacie sul territorio. Quello che ci auspicchiamo è l'adesione di molte altre farmacie per il prossimo anno. Durante la giornata in provincia sono stati raccolti 2.554 confezioni di farmaci per un valore di 14.120 euro che saranno distribuiti ai 26 enti convenzionati col banco. A Fano usufruiranno della donazione 4 enti Caritas Fano, Fondazione Ant, Piccole Suore Missionarie d'Istituto Donorione e Banca del Gratuito.